Luca Mercalli sapete che è presidente della società meteorologica italiana, sapete che è anche portatore se volete di una visione del mondo, di una filosofia della sobrietà che diventa sempre più necessaria e questa mattina ne parleremo. Ma io vi vorrei dire invece che quando aveva la vostra età Luca Mercalli si chiuse dentro una officina di casa che aveva suo papà e si mise a dipingere di nero dei tubi, dei tubi che poi riempì di acqua e fece l'acqua calda. Fu la scoperta dell'acqua calda da parte di Luca Mercalli ma furono anche i primi pannelli termici, pannelli solari termici che gli permisero di incominciare un lungo cammino che si è concluso soltanto adesso. Questa mattina è arrivato qui con un'auto elettrica, si è concluso soltanto adesso quando ha potuto finalmente coprire la sua casa di pannelli fotovoltaici, un po' che ne parleremo questa sera, e impiantare in questa casa tutta una serie di altri accorgimenti per l'economia energetica. Con questi pannelli fotovoltaici ha caricato la sua auto elettrica ed è arrivato qui, come vedete, quasi puntuale, anzi direi puntuale, con qualche minuto di antissimo, ma la colpa non è dell'auto elettrica, è del traffico di Torino, naturalmente. Bene, ecco, Luca Mercalli, vi ho già detto alcune cose di lui, vorrei dirvi però l'ultima cosa che secondo me è importante. È un personaggio pubblico, un personaggio televisivo, ma è un ricercatore soprattutto. Questa è una parte che ormai comincia ad essere un po' in ombra perché è troppo illuminato l'altro lato di Luca Mercalli. Invece vorrei ricordarvi che intanto ha fatto un lavoro storico della climatologia molto importante per la nostra regione, salvando dei dati, quelli famosi di Padre Denza, della stazione meteorologica di Moncalieri, poi facendo degli studi accuratissimi su varie zone del Piemonte dal punto di vista climatologico, sulla Valle d'Aosta, su Torino, tutti questi lavori sono pubblicati in volumi molto impegnativi di centinaia, qualcuno anche parecchie centinaia di pagine e questo è il lavoro scientifico di Luca Mercalli. Lavoro che si prolunga naturalmente nella presidenza della società meteorologica italiana con tutta l'attività che questa società svolge internazionale perché ovviamente la climatologia, la meteorologia non conoscono i confini né delle regioni né delle nazioni e neanche dei continenti. Come vedremo siamo tutti quanti piloti, è meglio dire piloti che non equipaggio, di un'astronave che si chiama Terra e siamo 7 miliardi a qualche cosa, siamo 7 miliardi di piloti e ognuno sta spingendo da una parte piuttosto che dall'altra, mentre forse dovremmo prendere, almeno su alcune questioni ambientali, per carità mai il pensiero unico, ci mancherebbe altro, ma su alcune questioni ambientali prendere delle decisioni in comune che non saranno mai all'unanimità, però forse è necessario a questo punto guidare quest'astronave in una direzione precisa ed è quello che cercheremo di capire appunto questa mattina. Piero oggi può ben permettersi di tracciare la mia biografia perché ci conosciamo ormai da quasi 30 anni e io ero proprio uno studente quando proposi a Piero, che allora dirigeva Tutto Scienze, il supplemento scientifico della stampa, il mio primo articolo. Il mio primo articolo oggi ne ho scritto ormai più di 1300, il mio primo articolo l'ho scritto grazie a Piero che era una persona di vedute estremamente aperte e si fidò di uno studentello assolutamente sconosciuto che gli diede un lavoro sul clima di Torino in un anno particolarmente asciutto nel quale la gente parlava del fatto che ci fosse la siccità, io lavoravo già con i primi dati meteorologici, quelli che sono stati ricordati dell'osservatorio del collegio Carlo Alberto di Moncalieri che cominciano nel 1865, avevo il mio primo computerino, era già l'Apple 2, erano i grandi computer disponibili quando noi eravamo studenti e grazie alle elaborazioni di quel primo computer, niente a che vedere oggi le farebbe il nostro telefonino queste operazioni, io avevo elaborato una serie di dati relativi alle piogge cadute nei secoli scorsi su Torino e avevo scritto questo articolo per Tutto Scienze. Che era ben fatto e per questo è stato immediatamente pubblicato, perché io giudico l'articolo, non giudico l'età di chi me lo porta. Questa è la cosa importante, l'apertura della scienza è prima di tutto costruita sui fatti, poi eventualmente si guarda anche il curriculum, si guardano le altre condizioni al contorno, ma quello che conta è che i fatti e la teoria esposta e il metodo utilizzato siano coerenti con un linguaggio, che è proprio il metodo scientifico. Il metodo scientifico è fatto di sperimentazione, ma soprattutto di possibilità di verificare i dati. Cioè io posso dire un sacco di cose qui con voi, ma se non sono verificabili anche da voi, allora non è scienza. Se invece sono delle teorie che stanno in piedi perché c'è una costruzione logica e potete rifare anche voi lo stesso ragionamento e utilizzare gli stessi dati per arrivare alle medesime conclusioni, allora è scienza. La scienza ovviamente non è mai definitiva, non è mai un dogma e cambia, muta nel tempo, aggiungendo in genere nuove conoscenze. Allora quel cammino lontano che io iniziai con quel primo articolo, oggi si è un po' ampliato perché io mi sono occupato fino a una decina di anni fa soltanto di clima. Studiare in particolare i ghiacciai delle nostre montagne, i dati meteorologici degli antichi osservatori che qui in Piemonte sono tanti, da Turino abbiamo dati dal 1753, ma poi mi sono d'accordo e erano gli anni nei quali si cominciava a parlare di cambiamenti climatici. L'Agenzia delle Nazioni Unite, deputata allo studio dei cambiamenti climatici, viene fondata nel 1988. Ecco, in quell'anno io facevo un servizio militare, occupandomi di meteorologia, e proprio in quell'anno, insomma, presi coscienza che i cambiamenti climatici non erano più una questione soltanto limitata ai ricercatori nel chiuso dei laboratori scientifici, ma erano una questione politica. E questo nel senso nobile del termine. Politica nel senso antico, classico, della polis, cioè un problema di cui si deve occupare il cittadino. Una questione politica perché nel 1988 era ormai chiaro, quello che oggi è stato ancora una volta ribadito e confermato mille volte, che se oggi il clima cambia non è solo più per fattori naturali, ma anche per fattori cosiddetti antropici. E cioè, prima di tutto, lo vedete nella prima immagine che io ho messo un po' di apertura qui, con questa esplosione ormai credo anche a voi nota, che è quella del Pozzo Macondo, nel Golfo del Messico, la piattaforma Deepwater Horizon, che nell'aprile di un paio di anni fa esplose con purtroppo anche una dozzina di vittime, ma soprattutto, vi ricorderete, causò un devastante inquinamento da idrocarburi in una grande area del Golfo del Messico. Ed era, se ricordo bene, la più grande e moderna e attrezzata del mondo, costata un miliardo di dollari, costava mezzo milione di dollari al giorno in gestione, un capolavoro ingegneristico, eppure qualcosa è andato storto, trivellava sotto 3.000 metri di mare e ancora 2.000 metri di terra, quindi 5.000 metri di profondità. Questo ci dice che ormai è un po' difficile trovare il petrolio. Questo ci dice che il nostro mondo, ed è quello nel quale io e Piero, in fondo, siamo cresciuti, è stato il mondo del petrolio. C'è stato un mondo del carbone tra l'inizio della rivoluzione industriale, a fine Settecento, e direi il 1900, la prima guerra mondiale, è stato il mondo del carbone, dopo arriva il mondo del petrolio, che è il mondo della motorizzazione spinta, è il mondo che permette di costruire le automobili, che permette di costruire ogni aggeggio, come potrebbe essere un decespugliatore, insomma una motosega, fino ad arrivare agli aerei e qualsiasi altro oggetto che usa una forma di energia nobile ed estremamente concentrata. Questo è tutto ciò che noi abbiamo potuto fare grazie alla grande scoperta, possiamo dire, dell'uso del petrolio del Novecento e di questo inizio di ventunesimo secolo. Se voi oggi siete tranquillamente seduti qui, circondati da mezzi tecnologici d'avanguardia, e con una vita tutto sommato comoda, almeno noi nel mondo occidentale, perché ricordiamoci che c'è sempre un pezzo di mondo che non si è nemmeno accorto che è arrivato il petrolio, se ne accorgano solo quando qualcuno li bombarda, oppure perché glielo portano via, oppure perché glielo rubano o li bombardano perché gli devono rubare il petrolio. Pensate alla Nigeria, a questi paesi africani dove ci sono molte risorse, ma di cui non godono le popolazioni che vi abitano. Ebbene, voi avete oggi tutto, avete come ho io, le comodità della nostra vita attuale, solo e esclusivamente grazie al petrolio. Al petrolio unito all'ingegno, cioè a quello che comunque la scienza e la tecnologia hanno saputo fare con il petrolio negli ultimi 150 anni circa. Però, e qui arriviamo allora al fatto che il petrolio non è infinito, e già di queste cose si parlava negli anni 70, tant'è che il motivo per cui io nel 1979-80 mi divertivo a dipingere di nero i tubi di rame, a fare il mio primo pannello solare, è che ancora c'era nell'aria alla reminiscenza di alcuni anni prima, cioè del 1973-74, con la prima grave crisi petrolifera che mise in ginocchio il mondo occidentale. La crisi petrolifera del 1973 non era determinata da una crisi fisica, cioè non era una mancanza fisica di petrolio sottoterra, ma era una crisi politica, erano le tensioni tra Israele e l'Egitto che provocarono l'embargo del commercio di petrolio per alcuni mesi, e questo fece capire la debolezza del mondo occidentale. Chiuso il rubinetto del petrolio, improvvisamente ci sentimmo perduti. Anche perché è una risorsa estremamente concentrata in una zona della terra, quindi sono pochi paesi, tra l'altro abbastanza solidarie. L'Arabia Saudita ne ha il 20% di tutto il mondo, ed è anche un petrolio buono, perché poi non dobbiamo dimenticare che c'è un petrolio facile e un petrolio difficile, un petrolio buono e un petrolio cattivo. Cattivo vuol dire che bisogna spendere più soldi per raffinarlo, e se ne tirano fuori meno materie pregiate. Quasi tutto quello buono è concentrato nei paesi arabi, e quindi basta chiudere quel rubinetto lì e tutto il mondo va in crisi. Allora, io ho sempre avuto l'arminiscenza in quegli anni, negli anni 70, di questo shock, proprio si chiamò shock petrolifero, Piero lo sceloneri cronista sulla stampa. Sì, sì, la prima domenica senza auto, perché ci furono appunto vari weekend senza auto, per il giornale dovete andare in giro per il Piemonte a vedere che cosa succedeva, e succedeva qualche cosa, sembrava davvero il giorno dopo la bomba atomica, perché non c'era un insegna accesa, non c'era un locale, un ristorante aperto, tutte le luci erano spente, non c'era ovviamente un'automobile in giro, se non la mia, e forse quella di qualche altro giornale che doveva fare il servizio. E' stato un momento in cui ci ha messo davanti alla nostra fragilità. Allora ecco che a me è rimasto un po' il piacere di cercare di essere un po' autosufficiente, e questo è il motivo per cui già allora mi divertivo invece di andare a vedermi la partita di calcio, armeggiavo con questo coso, che poi mi diede il gran piacere di farmi la prima doccia calda, e che è stata anche molto divertente. Oggi la faccio tutti i giorni, la doccia calda con l'acqua di pannelli solari, ovviamente commerciali, costruiti al meglio delle loro possibilità. Ma allora veniamo adesso al rovescio della medaglia, perché fin qui aver raccontato la storiellina del petrolio, lo shock petrolifero del 73, che poi viene risolto, perché risolte più o meno le tensioni militari nel Medio Oriente, e aperti nuovi mercati petroliferi, soprattutto il Venezuela, la Russia, questo poi fece scorrere fiumi di petrolio a basso prezzo, e ci si dimenticò di tutto. Probabilmente fu proprio quello l'errore, perdere di vista il momento giusto nel quale bisognava agire per cambiare rotta, e abbiamo sostanzialmente perso 30 anni. Il rovescio della medaglia qual è? Che non solo il petrolio è esauribile, e quindi noi non possiamo fondare una società che vada avanti per millenni così come siamo andati avanti noi. È stata una felice parentesi questa. Però bisogna adesso affrettarsi a trovare dei sostituti, perché prima o poi andiamo a secco. Ma l'altro problema è che l'uso del petrolio ha avuto un rovescio della medaglia, cioè l'inquinamento. Il petrolio ha concesso all'umanità due cose. La prima è stato cibo. Molto più cibo la meccanizzazione agricola, la coltivazione dei campi in maniera industriale, ha permesso di nutrire una quantità enorme in più di bocche, per cui, e lo vedremo, siamo passati da un miliardo di abitanti della Terra nel 1800 agli attuali 7 miliardi. Il secondo però è stato il fatto di produrre una quantità enorme di molecole di sintesi, prima tra tutte quella che ci è più familiare, è la plastica, che non esistono nel mondo naturale e il fatto che non esistono ha perturbato i cicli biogeochimici che funzionavano così tranquilli da miliardi di anni. Cioè abbiamo inserito dentro alcune cose che non c'erano e che non trovano il loro posto. Alcune di queste sono solo fastidiose da vedere, altre invece sono tossiche, tossiche per la nostra vita e per tutte le altre forme di vita dalle quali ricordiamoci che noi dipendiamo. Allora ecco che oggi siamo venuti a trovarci in un periodo storico che è il vostro, poi, che è fondamentale. Da un lato dobbiamo comunque sostituire il petrolio perché prima o poi finirà, ma dall'altro dobbiamo anche sostituirlo perché così come lo stiamo usando e con il tipo di economia che abbiamo costruito, stiamo andando a schiantarci contro i limiti fisici del pianeta. Allora vediamo due immagini. Questa è la copertina del libro dove molte di queste cose di cui io vi parlerò le trovate, esplicitate, e quindi passo avanti. Ma questo è un bel esempio che va sempre bene. Ringrazio il mio collega Luca Pardi di Aspo Italia che l'ha fatto proprio ieri su internet e io prontamente li ho copiato. E questa è una delle grandi novità dei nostri anni. È internet, internet usiamolo bene. Internet è pieno di stronzate, ma quando viene usato nel modo giusto è una possibilità di conoscenza straordinaria perché ci mette a contatto in tempo reale con tutta la conoscenza, la sapienza, la saggezza, i dati e le informazioni prodotti nel mondo in pochi minuti. Quindi io ieri sera ancora ho detto ma guarda che bell'esempio che ha fatto il mio collega. Gli copio immediatamente le immagini, non gli ho neanche chiesto il permesso, però l'ho ringraziato sotto. Sì, t'amici. E allora lui ha fatto questo pezzetto su un blog e ha detto vi ricordo che la Terra è un po' come una mela. La Terra è un piccolo pianeta. Piero è molto esperto di astronomia e potrebbe dirvi un sacco di cose confrontando la Terra con altri pianeti del Sistema Solare o con quelli che si pensa ci siano in altri. Ormai ne hanno scoperto più di mille intorno ad altre stelle. È vero però che un pianeta con questa atmosfera, con questo clima, eccetera, per ora è unico. Abbiamo solo questo. E comunque anche se ne fossero altri sono troppo lontani per noi. E quindi, quanto è grossa la Terra? Più o meno una sferida, si chiama Geoide, 510 milioni di chilometri quadrati. Però due terzi sono acqua, non ci possiamo abitare, quindi tagliamo un terzo di mela, cioè circa 150 milioni di chilometri quadrati. Ma queste 150 milioni di chilometri quadrati di terre emerse non sono tutte abitabili. Ci sono i grandi deserti, ci sono le calotte polari, ci sono le zone di pietraia, insomma zone improduttive. Ne resta circa un terzo di questo terzo, cioè più o meno una cinquantina di milioni di chilometri quadrati. Questa è la parte di terra nella quale noi viviamo. Noi, 7 miliardi di persone. Vedete che quella parte lì è meno di uno spicchio, perché se volessimo fare proporzioni giuste, su 510 vuol dire un decimo, quindi dovremmo fare 10 spicchi, in realtà ne abbiamo fatti 9 per praticità. Ne prendiamo uno piuttosto piccolo, sono 50 milioni di chilometri quadrati, lo sbucciamo, perché noi non viviamo nel mantello o nel magma del centro della terra, ma noi viviamo solo sulla buccia. Ecco, tutto il nostro patrimonio, inteso in risorse, in materiali, in ciò che usiamo, in spazio, in materie prime, e in luoghi dove buttare i nostri rifiuti, si gioca su quella buccia di mela. Ed è una superficie quindi che ormai comincia a essere sotto stress, che sembrava molto grande fino a 100 anni fa, fino a 150 anni, direi, guarda, 100 e qualcosa anni fa. Io porrei il momento nel quale l'umanità ha esaurito la sua potenzialità anche un po' esplorativa del mondo, intesa in conquista di spazi, con la fine dell'Ottocento, con la conquista dell'Ouest americano. Perché allora ancora c'era lo spirito di conquista di terre vuote, o comunque abitate da pochissime persone, i nativi americani, che peraltro sono anche stati un po' spazzati via in malo modo. Però c'era l'illusione di andare sempre verso Ovest e colonizzare terre nuove, foreste intoccate, campi da coltivare, miniere, era un sacco di ben di Dio, la corsa all'oro del Krondike in Alaska. Ma quando i coloni, alla fine dell'Ottocento, ormai hanno fondato San Francisco, Seattle, hanno conquistato la costa pacifica degli Stati Uniti, davanti che cosa c'era? L'antico Giappone. Finita. La terra rotonda era finita, non c'erano più luoghi da conquistare. Ne restano ancora un po' di luoghi da conquistare, ma sarebbe bene non farli fuori tutti. Per esempio la foresta amazzonica sarebbe un luogo da conquistare, se lo guardassimo con gli occhi rapaci di avere più risorse. E' quello che sta accadendo, perché si taglia la foresta per piantare della soia, per alimentare allevamenti di bovini e poi mangiare tanti hamburger. Ma è bene che noi facciamo fuori la foresta amazzonica? No, perché sappiamo che la foresta è una fonte di biodiversità, mantiene certi equilibri climatici e così via. Allora, molto prima che me ne accorgessi io di queste cose, ci avevano già pensato delle menti illuminate molti anni fa. Siamo nel 1968, io avevo due anni, quindi non me ne poteva fregare di meno di queste cose. Però un nostro concittadino, ed è importante ricordarlo perché è di Torino, è stata una grande personalità mondiale, lo vedete lì, è quella faccia lì, Aurelio Peccei, era un economista ed era anche un manager della Fiat, che si occupava però degli rapporti della Fiat con i paesi extraeuropei, in particolare la Cina e l'Argentina. aveva militato anche nella resistenza torinese, quindi era una persona di grandissime doti morali, era stato imprigionato dai nazi fascisti, torturato, nel 1945 viene liberato, mantiene la sua attività manageriale internazionale, e proprio perché vede, osserva con gli occhi, il boom economico, quello degli anni 60, quello basato sul petrolio facile, sul petrolio che veniva fuori dai pozzi del Texas, non c'era bisogno di andarlo a prendere sotto il mare a 5 km di profondità, si pone questa domanda, dice ma è possibile che l'umanità possa andare avanti all'infinito così? È evidente che se siamo basati sul petrolio prima o poi finirà, l'inquinamento prima o poi ci darà dei fastidi, la popolazione non può crescere all'infinito. Queste domande importanti che si pose a Aurelio Peccei nel 1968 vennero concretizzate in un rapporto che Peccei commissionò a un gruppo di ricercatori allora giovani che stavano a Boston al famoso Massachusetts Institute of Technology, potremmo dire il politecnico, il più grande politecnico del mondo, o forse tra i due, insieme a quello di Zurigo, e anche al nostro, perché ci mettiamo anche il nostro politecnico che non sfigura, allora commissionò negli primi anni 70, grazie ai primi computer che erano allora disponibili, una simulazione matematica di come funziona il mondo. Questa è anche un'altra grandissima novità rispetto a tutta la nostra storia precedente, perché fino all'Ottocento gli uomini non hanno avuto quasi la minima possibilità di prevedere il futuro, prevedere qualsiasi cosa, anche il funzionamento di una macchina, o se il sole sarebbe sorto il giorno dopo. È solo con la conoscenza scientifica che noi capiamo il perché delle cose avvengono e quindi possiamo prevederle. Ma quando finalmente abbiamo a disposizione il computer, possiamo fare delle previsioni molto più articolate, perché la quantità di calcoli che la mente umana può fare è molto limitata, quindi possiamo limitarci a fare delle previsioni modeste. Si poteva calcolare a mano come far funzionare una locomotiva nell'Ottocento, e lo si è fatto, ma calcolare come funzionava l'intero pianeta Terra insieme alle attività dell'uomo era un traguardo impossibile. Anche le previsioni del tempo hanno fatto lo stesso percorso. Già nel 1908 si sapeva che bisognava risolvere una quantità enorme di equazioni della fluidodinamica, della termodinamica per fare le previsioni del tempo, ma mancavano i computer. Risultato, fino al 1950 non si fa nulla. Col primo calcolatore che viene fatto in America si fa la prima previsione del tempo, nel 1950. E nel 1970 si farà invece questo nuovo modello che darà luogo alla pubblicazione di un famoso libro nel 1972 I limiti dello sviluppo. Questo libro sarà come una bomba buttata nella società occidentale, perché dice nel momento in cui tutti stanno crescendo alla grande, bruciando petrolio, utilizzando ogni genere di risorsa del pianeta, dice attenzione, il pianeta è quello lì che abbiamo visto prima, è una mela. Una mela non è infinita, è limitata e quindi esistono limiti fisici oltre i quali l'umanità non potrà andare, a meno che metta in atto una serie raffinata di percorsi, di utilizzo e riciclo delle risorse senza da un lato esaurirle e senza dall'altro finire preda dei residui della propria attività, dell'inquinamento. Allora questa roba fa scalpore, non ci si vuole credere, perché quando qualcuno rovina la favola da sempre fastidio e quindi si dice ma no hai sbagliato i calcoli sono tutte stupidaggi. Piero forse tutti ricordi di queste cose perché anche sulla stampa io allora appunto giocavo con la sabbia ma quando Peccei che era torinese pubblicò, si fece promotore della pubblicazione dei limiti dello sviluppo mi sembra uscirono anche grandi articoli qui a Torino. Ci fu un grande dibattito naturalmente su questo tema e allora il tema era molto aperto e discutibile mi ricordo che c'erano molte posizioni contrapposte a quella di Peccei poi poco per volta il consenso si è creato di fronte all'evidenza e infatti l'evidenza qual è? Lo vedete nell'altra immagine nel fatto che questi dati sono stati nuovamente ricalcolati e aggiornati con i nuovi computer che ci sono oggi immensamente oggi i computer che abbiamo sono qualcosa di rispetto ad allora bisogna dire almeno qualche numero per renderci conto della parte bella e della parte brutta la parte brutta sono tutti i problemi che abbiamo creato la parte bella è la possibilità di risolverli oggi i calcolatori con i quali facciamo queste simulazioni e con i quali si fanno anche le simulazioni del clima hanno una potenza dei petaflop che non è una parolaccia il petaflop è 10 alla 15 10 elevato alla 15 un milione di miliardi di operazioni al secondo un milione di miliardi di operazioni al secondo cioè nemmeno se tutti i 7 miliardi di abitanti facessero 1 più 1 in un secondo sarebbe nulla sarebbe nulla rispetto al milione di miliardi ecco questa è la potenza di calcolo che ci dà però una chance possiamo fare delle simulazioni e vedere dove va il mondo se mettiamo delle condizioni e vediamo che risposta ci dà quali sono le risposte sono quei grafici lì vedete che sono più o meno tutti dei grafici a campana dicono che in un ambiente finito come è il pianeta Terra all'inizio finché la risorsa è abbondante si cresce rapidamente ma poi purtroppo si arriva su una vetta un crinale di una collina e poi c'è la discesa la discesa avviene quando si esauriscono le risorse e quando aumenta l'inquinamento noi siamo più o meno quasi sulla vetta della collina lo vedete da quell'ombra grigia che evidenzia tutto il passato dell'era industriale dal 1900 fino ai primi anni 2000 queste simulazioni cosa dicono pur con la loro incertezza ma purtroppo sono credibili perché sono basate su dati razionali dicono che nei prossimi decenni o cambiamo il nostro stile di vita o ci infrangiamo contro i limiti della crescita nel fatto che il pianeta ha i suoi limiti finiti quindi sono tornate di attualità le cose che aveva detto Peccei e il Club di Roma negli anni 70 tant'è che questo è un grafico recentissimo di un mese e mezzo fa uscito sulla rivista americana New Scientist dove quelle curve colorate dicono dicono in sostanza vi riassumo ma lo sapete che Peccei non aveva tutti i torti adesso che sono passati 40 anni festeggiamo nel 2012 40 anni dall'uscita del rapporto dei limiti dello sviluppo abbiamo 40 anni di dati da accoppiare a quelle curve e sono quelle linee rossa nera le linee tratteggiate rispetto a quelle piene e dicono guardate gli andamenti sono poi quelli anzi in alcuni casi sono addirittura peggiori di quanto era stato previsto negli anni 70 guardate questa è la parte più importante del messaggio che io voglio lasciarvi tutto il resto adesso saranno dettagli la parte più importante è questa voi sarete la prima generazione nella storia dell'umanità che sarà messa di fronte ai limiti fisici del pianeta senza possibilità di espanderli cioè mentre nel passato c'era sempre una possibilità di espanderli con la conquista col colonialismo l'Europa ha conquistato e colonizzato terre che non erano utilizzate oggi non c'è più spazio sul pianeta abbiamo utilizzato pressoché tutto e quindi facciamo questa sorta di accordo globale dove tutti i 7 miliardi di abitanti si accorgono di essere in sostanza sulla stessa barca o meglio sulla stessa astronave perché questa è stata battezzata anche giustamente l'astronave terra stiamo viaggiando a 30 km al secondo intorno al sole in questo momento sembriamo fermi ma non è così 30 km al secondo sono tanti vuol dire che in un'ora ci sono 3600 secondi quindi sono 3 per 3 complicato ci vuole un computer viaggiamo insomma però possiamo possiamo complicare fatelo voi invece di fischiare fatelo voi possiamo complicare le cose dicendo che poi con il sole ci muoviamo a 250 km in secondo intorno al centro della galassia allora vedete che la prima cosa importante che voi dovete fare adesso è giusto che si faccia anche uno scherzetto una cosa però io non voglio farvi il moralista però vi voglio dire una cosa importante questa non è una lezione qualunque queste sono le istruzioni per l'uso del pianeta terra e della vostra vita cioè se si fallisce nel capire queste cose saranno lacrime e sangue ma molte di più di quelle che promette il nostro ministro solo sulla base economica perché l'economia è una cosa quando qui parliamo di quei numeri di quelle curve parliamo di leggi fisiche che non perdonano cioè mentre l'economia possiamo mercanteggiarla e dire salviamo la Grecia o non salviamola e decidiamo a tavolino cosa fare quando invece le decisioni le prende la termodinamica non puoi venire a patti con lei la termodinamica decide esattamente come la trazione gravitazionale io posso anche fantasticare di dire che cammino librandomi nell'aria lì davanti ma sappiamo benissimo che se faccio tre passi e non guardo dove sto andando cado e mi faccio del male perché tanto la trazione gravitazionale c'è e non è Luca Mercalli o Piero Bianucci che decidono di sospenderla per qualche minuto o per qualche secolo allora sono stati quindi ripubblicati questi dati e ne è stata riconosciuta la sostanziale correttezza formale poi bisogna andare nei dettagli e qui c'è tanto spazio di lavoro per lo studio cioè qui invece entriamo nell'aspetto che è anche entusiasmante studiare questi argomenti per risolvere i problemi del futuro ma traendone anche una fondamentale motivazione didattica e professionale per voi perché immagino che tra di voi ci saranno persone che a vario titolo avranno voglia di capire di più come funziona il mondo e farne di questo una professione studiandolo nelle università e così via diventando ricercatori contribuendo a risolvere questi problemi della popolazione qualcosa abbiamo già detto ma guardate solo la forma di questo grafico qui ci sono 12.000 anni meno 10.000 più i 2.000 anni dall'era cristiana insomma fanno nell'asse delle ascisse fanno circa 12.000 anni vedete che eravamo solo 5 milioni di abitanti 12.000 anni fa 5 milioni quindi una popolazione bassissima come neanche un pezzo di Lombardia di oggi tutti gli abitanti del mondo pochi conflitti un sacco di risorse per giunta nomadi quindi bastava muoversi quando qualcosa andava male o quando si esauriva la caccia in un territorio poi pian piano cresciamo arriviamo all'impero romano siamo 250 milioni e già cominciano a fare appugni perché quei 250 milioni erano particolarmente concentrati nel Mediterraneo problemi di fornitura di grano l'impero romano va a prendere il grano in Africa si dice nel tardo impero romano si dice a Roma che era la grande metropoli dell'impero un milione di abitanti allora si dice a Roma arrivano navi da tutto l'impero e non riparte nulla cioè questo dava già l'idea insomma del parassitismo ormai nel usare risorse da un mondo vastissimo per concentrarle in un luogo dove poi tutto sommato venivano un pochino anche dissipate poi arriviamo al 1800 taglio corto primo miliardo di persone ma ci abbiamo messo tutta la storia dell'uomo per arrivare lì Homo sapiens ha 200 mila anni di colpo arriva il carbone arriva il petrolio ecco che quindi le possibilità di nutrire più gente e così via ma vedete che la forma della curva si cambia radicalmente da un'equazione lineare con una crescita molto lenta diventa un'equazione esponenziale c'è proprio una piega un ginocchio questa piega che vedete attorno al 1800 ci mette in una condizione assolutamente nuova siamo una popolazione che sta aumentando a dismisura senza fare i calcoli della possibilità che ha per nutrirsi e già sappiamo che di questa parte di umanità cioè che di questa totale umanità 7 miliardi un miliardo sta molto bene come noi un miliardo sta molto male non mangia il corno d'Africa e i 5 miliardi che sono in mezzo stanno copiando il modello americano vedete Cina e India che vogliono raggiungere quel tipo di modello non è detto che sia il più giusto e noi siamo qui proprio per cercare di vedere se ci sono delle vie di mezzo il modello europeo sicuramente è migliore tra l'altro anche qui bisogna ricordarci che viviamo in un angolo di mondo molto particolare noi abbiamo pochi giovani e molti anziani ma il mondo non è così il mondo è giovane pensate che un miliardo e 600 milioni di persone di questi 7 miliardi di cui parla Luca Mercalli sono ragazzi compresi tra i 15 e i 25 anni quindi un miliardo e 600 milioni è la popolazione di tutto il mondo nell'anno 1900 e adesso è costituita semplicemente da questa fascia di età e questa è una grande risorsa tra l'altro perché sono gli anni più fecondi gli anni più creativi ma attenzione pur che si studi sono nei paesi poveri che non possono permettere loro di sviluppare queste loro potenzialità quindi uno dei nostri doveri di mondo sviluppato è aiutare questo tipo di sviluppo e internet potrà essere un buon modo per diffondere sta aiutando molto allora dopo i limiti dello sviluppo molte altre cose sono state fatte questa che vedete la copertina del Millennium Ecosystem Assessment cioè possiamo dire la valutazione dell'ecosistema mondiale alla vigilia di questo nuovo millennio e ci dà tutti i calcoli di tante criticità questo è uscito nel 2005 nessuno ne ha insomma se ne sono fregati tutti di quello che dice qui più di 3000 ricercatori hanno lavorato a fare no 1500 ma fa lo stesso insomma migliaia di ricercatori hanno lavorato per fare questo lavoro un esempio tra i tanti che vi fa capire che non sono balle quelle di cui si sta parlando ai miei tempi c'erano i bastoncini di merluzzo findus che a me piacevano anche tanto si facevano friggere in padella croccantissimi capitano findus e già io sono figlio però di un picco di pesca del merluzzo che è stato deleterio la zona dell'Atlantico settentrionale era così ricca di merluzzi al punto tale che un promontorio della costa americana verso il Vermont fu battezzato Cape Cod capo merluzzo e per centinaia da anni come vedete si è pescato merluzzo con metodi manuali con le navi da pesca a vela e poi al limite con un piccolo motore a vapore ma tutto il lavoro era dei pescatori a mano e questo vedete la prima parte del grafico fino più o meno agli anni 50 negli anni 60 arrivano le grandi possiamo dire navi da pesca industriale sono navi gigantesche azionate da motori diesel con la possibilità di tirare reti a strascico con due persone possono fare il lavoro che prima lo facevano cento un intero equipaggio di una nave queste navi fanno razzia dei merluzzi nell'oceano atlantico settentrionale arrivando a picchi di pesca vedete che sono di quattro volte anche quella che era la pesca media del secolo precedente si creano i primi allarmi alcune autorità canadesi e americane dicono attenzione qua se peschiamo troppo non si riproduce più no no ce n'è talmente tanto che ce ne sarà sempre il risultato è che negli anni 80 la produzione di merluzzo crolla crolla totalmente si riprende un po' e allora viene detto ma si allora basta solo ridurle niente da fare ci si è accorti che nelle popolazioni naturali esistono delle soglie da non oltrepassare questa proprietà si chiama resilienza nella natura tutto è resiliente cioè tutto è molto elastico potete rovinare un sistema e ci sono molte possibilità che il sistema si ripari però se si superano certe soglie il sistema collassa e non ce la fa più ecco nel 1992 è accaduto proprio quello adesso l'oceano atlantico settentrionale è un deserto ittico il merluzzo è praticamente estinto si cerca di allevarlo c'è in altri mari del mondo ma in quella zona non c'è più e non riesce più a riprodursi perché adesso sono subentrate nuove forme di vita ittica che parassitizzano i piccoli le larve insomma appena nate dei piccoli merluzzi rimasti e quindi si è alterato forse per sempre un sistema che funzionava così forse da milioni di anni allora vedete che i limiti esistono oggi che cosa c'è nei nostri bastoncini spesso non è più merluzzo c'è scritto bastoncini di pesce sono delle specie sussidiarie vicarianti non più buone come il merluzzo il famoso pesce veloce del baltico pesce veloce del baltico si sembra di tre come il parla anche paolo conte infatti pesce veloce del baltico non è più merluzzo perché il merluzzo non c'è più allora tenete presente questo grafico perché potrebbe succedere in tanti altri sistemi questo andamento e quando si poi ci si mette a correggere gli errori è troppo tardi perché non siamo noi a comandare questi processi queste cose non sono dette soltanto in questi grandi rapporti ma anche in pubblicazioni scientifiche molto rigorose come questa che è una pubblicazione fondamentale che è comparsa nel 2009 su Nature che è una delle più grandi riviste scientifiche del mondo e c'è scritto uno spazio di manovra sicuro per l'umanità i limiti oltre i quali non dobbiamo andare e quel grafico lì ci fa vedere gli spicchi rossi sono le zone dove già siamo andati fuori siamo già in zona rossa potremmo dire e sono la biodiversità perché abbiamo fatto fuori una quantità enorme di specie o togliamo gli habitat che permettono loro di resistere il ciclo dell'azoto cosa di cui non si parla mai ma l'azoto è fondamentale perché è uno dei grandi elementi che serve per la nutrizione vegetale e ricordate che il 97% della biomassa del pianeta è vegetale quindi il regno animale è un regno molto piccolo rispetto al regno vegetale 97% è il regno vegetale 3% è il regno animale di cui noi facciamo parte e siamo credo allo 0,02% bene e allora l'azoto noi abbiamo imparato a produrlo con metodi di sintesi nel 1904 giù di lì in Germania il processo Haber-Bosch bellissima cosa perché possiamo creare una quantità enorme di nuovi prodotti compreso i fertilizzanti chimici per aumentare la produttività agraria e nutrire più persone ma abbiamo perturbato un ciclo naturale che stava così da milioni di anni mettendo in atmosfera immettendo nella vita nella biosfera più azoto di quanto fanno tutti i sistemi naturali messi insieme quindi è un grande punto interrogativo cosa succederà nessuno lo sa perché è troppo poco tempo che ciò sta accadendo sappiamo solo che siamo fuori dai limiti e poi c'è un altro un altro spicchio rosso che è il cambiamento del clima quindi vedete che siamo già fuori su tre appunti e su altri ci stiamo avviando a superare questi limiti allora questi grafici qui sono dei campanelli di allarme importanti ma non se ne parla o se se ne parla vengono considerati alla stregua di tanti altri argomenti più banali sappiamo anche con delle quantità rigorose e precise che esiste la cosiddetta impronta ecologica cioè ognuno di noi usa una certa parte di queste risorse un po' di suolo un po' di legno un po' di pesce un po' di terreno agricolo questa impronta ecologica ormai per i 7 miliardi di umani è superiore alla potenzialità della terra di rigenerarsi cioè stiamo usando già una terra virgola qualcosa virgola 3 virgola 4 e lo vedete da quella sorta di indicatore in basso fino al 100% è la potenzialità di sostentamento che la terra può dare all'umanità la si è mantenuta più o meno fino agli anni 70 e dagli anni 70 anno dopo anno ci stiamo spingendo a utilizzare più di quanto la terra rigenera quindi stiamo consumando il capitale chi penalizza voi soprattutto voi chi oggi è anziano gode il capitale e vi fa così voi invece un certo giorno direte ma qui non c'è più la foresta amazzonica e l'han segata quelli prima adesso vedremo se ricrescerà potrebbe anche non ricrescere insomma quel grafico ci dice che se continuiamo così nel 2040 quindi nel pieno della vostra vita noi ci troveremmo a utilizzare due terre ma siccome non le abbiamo due terre vuol dire che qualcuno comincerà a avere il piatto vuoto questo è in sintesi se vogliamo avere una lunga vita lunga come specie di ancora migliaia speriamo chi lo sa centinaia di migliaia di anni dobbiamo riportare il nostro utilizzo di risorse all'interno dell'unico pianeta che abbiamo vedete che la curva auspicata è quella gialla che scende dall'eccesso di oggi e ci riporta all'uso di una sola terra perché è l'unica che realisticamente abbiamo con in più speriamo del cervello queste cose le hanno dette dei premi Nobel insomma sono ormai notissime sul piano scientifico ma non fanno parte del nostro patrimonio di dibattito anche il dibattito quotidiano non parliamo tanto di economia ma di questi argomenti parliamo poco ora cambiamenti climatici perché il tempo scorre rapido e qui gli argomenti sono tanti fino a che ora possiamo andare avanti abbiamo ancora un quarto d'ora e poi le domande io non vado adesso a farvi vedere troppe cose sul clima vi posso solo dire che bruciando per 200 anni petrolio e carbone abbiamo alterato la composizione chimica dell'atmosfera e anche se voi sentite dire tanti che sono tutte palle i cambiamenti climatici di nuovo fidatevi della scienza vera e la scienza vera per esempio con i carotaggi in antartide ci dice con quella linea rossa che è in basso che non possiamo descrivere perché ci vuole troppo tempo ma ci dice che nel periodo storico dell'ultimo milione di anni che abbiamo dietro le spalle cioè verso destra andate in questo caso l'anidride carbonica che è un gas a effetto serra non si è mai mossa al di là di due paletti 180 parti per milione circa nelle ere glaciali e 300 parti per milione nei periodi interglaciali come questo peccato che noi oggi siamo a 390 e il pallino che vedete a sinistra sull'asse delle ordinate e cresce di una a due parti per milione all'anno praticamente da 300 che era il valore massimo naturale dell'ultimo milione di anni noi abbiamo aggiunto 90 parti per milione che continuano ad aumentare che cosa sono? L'effetto del bruciare carbone e petrolio e gas che liberano carbonio che era tranquillamente sottoterra da milioni di anni che viene fuori e da qualche parte deve andare va anche negli oceani dove tra l'altro crea un sacco di problemi perché acidifica le acque anche questo è un problema di cui non si parla ma è drammatico l'acidificazione dell'acqua degli oceani perché la CO2 disciolta nell'acqua acidifica quindi diminuisce il pH provoca il collasso delle piccole specie di microplanton che hanno uno scheletro carbonatico non riescono più a fabbricarsi lo scheletro con i carbonati che trovano nell'acqua perché l'acidità lo dissolve e questo può portare all'estinzione di una quantità enorme di specie allora stiamo vivendo negli anni più caldi della nostra storia quello è il grafico vi fa bene vedere che gli ultimi dieci anni sono i più caldi in assoluto sulla parte destra lo vediamo dai nostri ghiacciai ecco questa era la mia prima attività di ricerca infatti quella foto che vedete a sinistra l'ho fatta quando ero poco più che studente 1987 lo stesso ghiacciaio lo vedete fotografato sempre da me ma nel 2010 non è lo stesso ghiacciaio vedete la stessa montagna che prima faceva solo Capolino adesso si vede benissimo perché è sparito il ghiacciaio lo possiamo vedere meglio se facciamo i confronti su un secolo in questo caso il grande ghiacciaio di Pre de Bar in Valle d'Aosta sopra Courmayeur e lo vedete con cento anni circa di distanza che cosa è successo e stanno continuando ad arretrare ecco i super calcolatori di cui parlavamo prima quindi quando sentite parlare di questi scenari non sono delle fantasie di gente che si è svegliata male al mattino o passa per la strada e gli chiedete senti cosa ne pensi del futuro qui dietro c'è una quantità di ricerca e di massimo livello direi nella formazione professionale delle discipline più svariate e anche denaro un calcolatore come questo per esempio il NEC SX8 quello dal petaflop lavora per esempio nel centro di calcolo francese e delle previsioni del tempo costa solo di affitto perché spesso vengono affittati 4 milioni di euro all'anno tanto per dare una visione di come si lavori al top delle possibilità oggi ecco questo è uscito pochi giorni fa una conferenza stampa proprio dei vari istituti di ricerca francesi incluso il CNR francese ha reso pubblico questo grafico dove dice questa è una delle tante ma ancora una conferma del fatto che siamo stati noi a variare le condizioni climatiche qui vedete due curve una azzurra e una gialla quella azzurra è la simulazione del funzionamento del clima terrestre dal 1850 a oggi senza considerare le attività umane cioè togliendo l'inquinamento e vediamo che il clima della Terra con la linea azzurra non si dovrebbe riscaldare se guardiamo l'ultimo tratto a destra più o meno rimane costante come era nei secoli scorsi poi è stata fatta la seconda simulazione sempre a partire dal 1850 mettendo quella CO2 che abbiamo visto prima che abbiamo aggiunto noi il risultato è che vedete che invece la linea si alza e spiega bene il riscaldamento che abbiamo constatato in questi ultimi 30 anni allora queste due simulazioni ci dicono che la colpa è proprio nostra se noi non avessimo immesso la CO2 il clima non si sarebbe riscaldato questi sono dati rilevanti importanti però gli si dà spesso poca importanza soprattutto sono molto autorevoli cioè qui dietro c'è tanta ricerca scientifica di altissimo livello e il futuro il futuro purtroppo quello per voi e per me anche in buona parte è questo cioè se noi continueremo a immettere in atmosfera così tanti prodotti di rifiuto della combustione di materiali fossili la temperatura non farà che crescere allora guardiamo il caso peggiore la linea rossa il caso peggiore ci dice nel 2100 vediamo lì a metà più o meno potremmo avere circa dai 4 ai 6 gradi in più che sono un'enormità per la stabilità della terra lì addirittura il grafico continua la simulazione fino al 2300 ma lasciamo perdere i secoli limitiamoci al 2100 che è l'arco della vostra vita c'è anche una linea verde a metà la linea verde è quella che ci sforziamo di percorrere con il lavoro che stiamo facendo insieme questa mattina se capiamo quali sono le criticità del funzionamento della terra se utilizziamo il meglio della conoscenza scientifica e riduciamo un po' le nostre richieste di desideri futili allora possiamo abbassare la rischiosissima linea rossa in quella verde che sia un aumento di temperatura sempre di un paio di gradi 2-3 gradi rispetto al passato ma è qualcosa alla quale l'umanità può pensare di adattarsi ed è questo il punto fondamentale riuscire ad adattarsi con 6-7 gradi in più è difficilissimo ad adattarsi cioè si rischia veramente che accada qualcosa di brutto all'umanità queste sono altre simulazioni sul Mediterraneo guardate soltanto il pannello in basso a sinistra quella chiazza rosa rossa sul Mediterraneo questa è la stima dell'aumento della temperatura estiva verso gli ultimi anni di questo secolo sul Mediterraneo tutte le estati come quella che forse vi ricordate del 2003 quella caldissima del 2003 l'estate normale diventerà quella non è molto bella non è molto piacevole causò in Europa 36.000 morti quell'estate lì confrontatela con i 600 morti per il freddo della scorsa settimana questa ondata di freddo è stata molto modesta non è stata eccezionale è stata un'ondata di freddo del tutto ricorrente ogni 20-30 anni ce n'è una così le ondate di caldo invece sono qualcosa di nuovo che non erano mai capitate prima con quelle intensità poi c'è l'aumento del livello dei mari che è un altro problema perché poi minaccerà le popolazioni costiere con migrazioni di persone e così via del petrolio abbiamo già detto qualcosa qui vedete il grafico che più o meno vi conferma ciò che abbiamo detto prima si è estratto in passato il petrolio più facile ora si va verso la parte declinante cioè si dice si è passato il picco del petrolio quindi non vuol dire che il petrolio si esaurisce ma vuol dire che sarà sempre più difficile e costoso estrarlo non per niente continua a costare 100 dollari al barile anche in epoca di crisi il prezzo non è sceso e di nuovo queste cose non ce le siamo inventate io e Piero questo è un articolo comparso su Nature proprio poche settimane fa è proprio un articolo del gennaio del 26 gennaio 2012 e c'è scritto chiaro abbiamo passato il picco del petrolio e c'è scritto anche a destra il prezzo del petrolio molto verosimilmente ha avuto una gran parte nella formazione della crisi dell'euro nei paesi del sud Europa chi sono i paesi del sud Europa la Grecia prima di tutto l'Italia la Spagna cioè noi compriamo un petrolio sempre più caro e purtroppo non ci curiamo di come lo usiamo in gran parte lo sprechiamo lo usiamo male e infatti questo fumetto americano già di dieci anni fa lo dice chiaro dice siamo lì siamo sul picco ancora tutto sembra molto bello quando sei sulla vetta della montagna è sempre molto bello attenzione che adesso c'è la discesa prepariamoci come? attraverso la graduale aumento delle energie rinnovabili che oggi non sono ancora pronte per soddisfare tutte le nostre esigenze ma se ci lavoriamo sopra lo diventeranno e ci toglieranno da un lato dalla schiavitù del petrolio in ausorimento e dall'altro da quella del cambiamento climatico due piccioni con una fava un terzo argomento molto importante è il risparmio nell'uso del suolo questo ve lo dico perché lo vediamo ogni giorno accanto a noi basta cementificare il suolo e l'assicurazione per il futuro perché sul suolo si chiudono i cicli biogeochimici ma soprattutto sul suolo produciamo da mangiare e in un momento di continuo aumento della popolazione terrestre e di potenziale diminuzione della produttività agraria perché se il petrolio continua a costare di più e i cambiamenti climatici ci mettono uno zampino il rischio è di produrre un po' meno allora la carta da giocare è che potremmo esserci la fame cosa a voi completamente sconosciuta a me più o meno anche a Piero invece qualche reminiscenza della fame ce l'ha ancora subito dopo la guerra il pane era razionato si andava a comprare quella dose di pane non di più quindi occhio quando vedete ecco quella immagine da satellite della nostra pianura attenzione che ogni operazione urbanistica fatta solo per il profitto immediato che sacrifica del prezioso suolo agrario ipoteca la nostra possibilità di nutrirci per il futuro quindi dovremmo essere in grado oggi di fare una grande manutenzione di tutto quello che abbiamo costruito prima che spesso cade a pezzi ma non costruire su un nuovo prezioso suolo agrario tra l'altro il suolo della pianura padana è il migliore del mondo cioè quello più produttivo allora e siamo alla fine le ultime cose quali sono abbiamo intitolato questa mattinata un mondo che va a sole io ci ho voluto provare ci ho provato e questo è il mio tetto io sto in una piccola casa una casa rurale di fine ottocento mal ridotta dove ho fatto un restauro con le tecnologie energetiche più moderne mettendo su tutto il tetto esposto a sud i pannelli fotovoltaici che sono quelli che vedete in alto e i pannelli termici quelli per l'acqua calda l'evoluzione di quello che avevo costruito io da bambino che vedete in basso con i pannelli termici ci faccio tranquillamente la doccia stamattina l'acqua era ancora a 56 gradi da ieri pensate e siamo in inverno ancora e con i pannelli fotovoltaici faccio l'energia elettrica con cui funziona il mio computer la mia pompa di calore che è un modo nuovo per produrre il riscaldamento di casa un modo che sfrutta le leggi dei gas e la compressione e l'espansione di un gas e quindi diciamo che detto in breve la pompa di calore mi riscalda con l'elettricità moltiplicando per tre l'unità energetica fondamentale cioè io metto un chilowattora per comprimere il gas come fa il frigorifero però questo assorbe energia dall'ambiente esterno e me ne riporta in casa tre quindi io metto un chilowattora e ne ottengo tre ecco perché questo moltiplica quindi le potenzialità energetiche della mia energia che ho fatto sul tetto anche in una stagione fredda come questa anche in una stagione fredda allora abbiamo avuto mediamente questo questo fattore si chiama COP coefficient of performance e vale tre in media sull'anno anzi 3,5 nelle giornate più fredde che abbiamo avuto due settimane fa ho lavorato con un COP di due che non è molto buono perché l'aria era così fredda che quindi poteva estrarre comunque era sempre inattivo tuttavia quante sono in un anno le giornate così si contano su una mano e quello che conta poi è il ciclo annuale allora alla fine oggi vediamo che già un impianto come questo è inattivo cioè io a casa mia produco più di quanto consumo sul bilancio annuale chiaramente nella giornata nuvolosa e fredda dovrò attingere dalla rete ma guardate non cadiamo nella trappola del dogmatismo e del radicalismo il radicalismo è quando o è 0 o è 100 non c'è mai via di mezzo io oggi non sostengo certo che si possa far funzionare tutto il mondo a pannelli solari però se possiamo tirarne fuori il 20 il 30 il 40% ma why not ma perché no cominciamo a usare quel 20 quel 30 quel 40% intanto chi come voi domani sarà all'università andrà a studiare al Politecnico farà magari ingegneria energetica ingegneria elettrotecnica e migliorerà i pannelli solari che produrranno con una efficienza sempre migliore c'era un altro articolo su Nature proprio ieri che si sta varcando un'altra soglia importante nel rendimento dei pannelli solari oggi questi pannelli fotovoltaici hanno un rendimento di circa il 15% cioè su 100 watt che arrivano dal sole riescono a catturarne solo 15 perché ci sono dei problemi con lo spettro di radiazione il silicio si funziona ma dissipa tanto in calore perde ci sono nuovi materiali e nuove formulazioni ottiche del prodotto che permettono di usare molto meglio il fascio di fotoni che arriva dal sole e quindi di arrivare a rendimenti del 28 del 30 del 40% pensate che se fossimo al 40% vuol dire quasi dimezzare la superficie oltre che dimezzare la superficie di pannelli che ho sul tetto per fare la stessa quantità di energia tra l'altro i pannelli a dispetto di quanto si dice oggi non inquinano si possono e si devono riciclare perché sono fatti tutti di materiali molto pregiati alluminio per la cornice vetro silicio che è costoso ma si può riciclare e silicio è il materiale più abbondante sulla crosta terrestre solo che bisogna lavorarlo con criteri di particolare purezza e allora io mi diverto questa è una cosa importante anche non si cambia il mondo facendo solo come si viene detto dei sacrifici primo come avete visto io non sono tornato al medioevo ma semmai ho fatto un passo avanti secondo mi diverto cioè non è un sacrificio vivere nella casa solare è un divertimento io mi guardo ogni sera il mio grafico sul computer dove vedo quanto ho prodotto come è andata la giornata questo è un grafico di metà novembre e comunque anche ieri per esempio il grafico era simile io ho fatto ieri 16 kilowattora 16 kilowattora anche soldi tra l'altro sono perché poi questa energia quando è in eccesso la rivendi la vai in rete alimenterà magari un giorno che io non sono a casa il pannello produce lo stesso e questa energia la userà il mio vicino la userà qualcun altro quindi gli elettroni per fortuna non hanno etichetta una volta messi nella rete girano allora in conclusione abbiamo un fumetto che ci dice da un lato che tutta l'attenzione che oggi si dà all'economia è una trappola l'attenzione principale bisognerebbe darla all'ecofisica l'ecofisica è quel complesso di leggi fisiche applicate al funzionamento del mondo reale di cui abbiamo parlato oggi l'economia deve essere solo un sotto insieme non è l'economia che governa tutto sono le leggi della termodinamica della fluidodinamica le leggi insomma che funzionano così da quando c'è stato il big bang quindi più o meno 13,5 miliardi di anni non c'era neanche la terra ma quello che io vorrei sottolineare nella cosa che vi ha detto Luca Mercalli è il mondo reale cioè anche i beni reali che si producono e allora vorrei darvi questo dato voi sapete che da un lato c'è la finanza e dal lato c'è la produzione industriale di beni reali ebbene la finanza muove oggi in 4 giorni la quantità di valore cioè la quantità di soldi che corrisponde alla produzione di un anno di beni reali allora c'è qualcosa che non va perché se questa finanza è tutto denaro virtuale in 4 giorni facciamo uno spostamento di denaro di commercio di denaro pari a quello che si fa in un anno con i beni reali beh qui c'è qualcuno che specula vuol dire che il denaro non rappresenta più i beni fondamentali su cui però è basata la nostra vita noi siamo dei flussi di energia e di materia non dei flussi di denaro noi proprio una persona è un flusso di energia e di materia la materia è il panino che noi mangiamo sotto forma delle proteine l'energia sono magari i carboidrati c'è ancora un flusso bisogna ricordarci che c'è anche quando ci sediamo sul water l'altro pezzo chiudere il ciclo però la natura ha stabilito che diventa nutrimento per qualcun altro e il mondo e anche l'economia devono funzionare tenendo presente questi aspetti l'energia per noi oggi è diventata importantissima perché per fare tutte le cose che ci rendono comodo la vita abbiamo fatto ricorso a questa energia fossile che l'abbiamo vista prima allora abbiamo una quantità enorme di schiavi energetici che oggi ci servono perché noi il nostro corpo ha una potenza veramente limitata circa 100 watt circa 100 watt proprio uno sportivo allenatissimo un ciclista nel momento di massima prestazione per pochi minuti può erogare qualcosa come 600-800 watt ma uno o due minuti e poi schianta morto quindi rendetemi conto nemmeno un kilowatt può esprimere la potenza di un uomo e voi tranquilli guardate le pubblicità dei SUV quando c'è scritto 250 kilowatt 300 kilowatt il motore ma vi rendete conto? è come avere più di 300 uomini dentro che fanno muovere un'automobile però con la prestazione di un minuto non di più poi si fermano comunque 300 uomini allora quel grafico che avete visto prima quel fumetto ci fa ben capire che occhio ai grafici dell'economia l'economia in ribasso sì ma non tutte le attenzioni devono andare a questa economia drogata perché poi vedete che la crepa lì del grafico si propaga a tutta la nostra piccola mela e allora quindi noi dobbiamo ristabilire le priorità dei sottosistemi il paradigma qual è? oggi il paradigma è che l'economia è importante ed è la cosa più importante di tutti i soldi dobbiamo rimetterla visto che ci sono anche altre sfere che sono la società l'ambiente e che insieme si incrociano nella sostenibilità dobbiamo però far evolvere il paradigma facendo diventare l'economia un sottosistema come è giusto che sia contenuto in quello più grande che è l'ambiente che è quello azzurro che è in sostanza il nostro pianeta e nell'economia la finanza al servizio della produzione e non viceversa attenzione perché a tirare la corda poi si rompe l'abbiamo visto col merluzzo ma può capitare in tante altre situazioni la ricettina ne abbiamo già parlato quindi dobbiamo ridurre un po' i nostri desideri i nostri appetiti questo non vuol dire tornare al medioevo vuol dire scegliere bene vuol dire fare le giuste scelte e liberarci un po' da un certo condizionamento della pubblicità che sta svolgendo in questo momento una truffa totale nei nostri confronti dicendoci che non ci sono limiti se voi guardate la pubblicità di oggi tende a dirvi che purché abbiate una carta di credito ben fornita non esistono limiti non è vero la termodinamica mette limiti precisissimi alla nostra vita la geometria del pianeta ne mette altri quindi i limiti esistono non perdeteli di vista perché se li perdiamo di vista poi dopo la punizione è grave quindi difendere il soddisfacimento dei bisogni fondamentali questa è una cosa importantissima le conquiste vere del nostro novecento che sono mangiare tutti avere un'istruzione pubblica avere una casa calda avere possibilità di muoverci di diritti civili una buona sanità fondamentale ma guardate stanno sulle dita delle mani tutte le altre cose di cui vi riempite la testa ogni giorno fate un po' l'esercizio ma sono molto meno importanti e alcune sono addirittura perniciose avere una macchina molto grossa avere dieci alloggi cioè la casa in montagna al mare a Parigi a Londra fare le vacanze esotiche a ogni piesso spinto sono tutte cose che hanno dei costi ambientali importanti e che tutti non si possono peraltro permettere aumentano anche le disparità sociali allora se noi riduciamo un po' questi desideri effimeri possiamo stare bene lo stesso riducendo però il carico anche di dissipazione di risorse la macchina elettrica con la quale sono arrivato è un esempio io non ricorro il non devo certamente vantarmi di quanti kilowatt ho nel motore ma semmai di quanto pochi ne ho grazie 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 grazie